da questa settimana inizio la rubrica con gli eventi della settimana a cui lei non andrebbe buongiorno ad eri b buongiorno a tutti e bentrovati nuovamente che cosa strana sentire essere qua la mattina e si si è abituata alla presenza in trenmi la sera questa stagione invece l'abbiamo rubata e l'abbiamo inserita qui nel palinsesto della mattina ma soprattutto ovviamente oggi era il giorno giusto per iniziare questa rubrica che tutti i venerdì sarà qui con noi allora posso fare la mia siglettina gli eventi della settimana a cui io e ribbino andrei questa è la settimana top cioè inizia con la settimana top perché su milano ci sono tantissime cose nella settimana che porta a sant'ambrogio ma iniziamo un po prima va bene va bene allora la prima cosa che vi vorrei far notare che intanto da oggi fino al 6 dicembre tornano i mercatini in piazza del duomo oh ne avevamo proprio la mancanza vero fino al 6 dicembre c'è un motivo perché sono fino al 6 dicembre perché l'altro evento a cui io sicuramente non andrò è l'accensione dell'albero di natale cioè ma una volta soltanto mi è capitato di guardare la diretta streaming credo del nostro amico andrea kerchi tra l'altro e ho detto ma questa gente innanzitutto è alle 17 cioè la 17 la gente sta ancora lavorando in duomo evidentemente non quelli che vanno in duomo ma perché ci andate perché ci andate siete mai andate l'accensione di un albero in duomo no però mi sarebbe piaciuto devo dire la verità vabbè comunque divertitevi tantissimo per chi ci vorrà andare mercoledì 6 dicembre 17 c'è l'accensione dell'albero di natale chissà se sarà uno spelacchio sarà un bel albero questo ce lo chiediamo un po tutti da quello che ho visto mi sembra un bel albero quest'anno bello alto soprattutto di fondazione giochi olimpici milano cortina 2026 poi cambio per un attimo l'argomento l'argomento è che questo weekend c'è domenica 3 dicembre c'è la prima edizione della straminano sotto zero mi fa ridere perché innanzitutto non c'è la straminano è una cosa che fa fai d'estate di primavera 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 c'era la necessità di fare quella sotto zero mi piace la domanda sempre se c'era necessità di fare qualcosa però allora intanto costa 16 euro che con i tempi che corrono non è che proprio cosa ti daranno una sacchetta e due gadget stessa sacchetta penso proprio di sì allora hanno cambiato nell'arco di questa settimana l'orario delle due manifestazioni perché ovviamente c'è una 10 chilometri competitiva e poi c'è la 5 e 10 ci vanno tutti spero non ci vada nessuno ma fa niente spero non ci vada nessuno come doveva essere quella competitiva alle 9 e mezza l'hanno fatta alle 10 e mezza e invece l'altra alle 11 e mezza apro e chiudo parentesi ma se si chiama straminano sotto zero alle 11 e mezza che zero vuoi che ci sia comunque bisogna ancora potevano chiamarla straminano di natale straminano di dicembre straminano sotto zero straminano sotto il freccio io critico anche i nomi poi voi fate quello che volete se volete andate andate divertitevi correte non vi fate male tanto si corre sempre nel weekend a milano per un motivo o per l'altro esatto esatto e poi vabbè che cosa c'è il re degli eventi lo lascio per ultimo perché voglio poi un po' saccagnare ma allora tra il 7 e il 10 dicembre c'è la fiera degli Obey Obey ok tu sei del 1999 non ti ricordi molto probabilmente a pelo a pelo dove veniva fatta prima la fiera no la fiera degli Obey Obey veniva fatta intorno alla chiesa dei milanesi cioè a Sant'Ambrogio ok c'era cattolica quindi veniva fatto tutto quel quartiere c'erano delle zone diciamo legali dove c'era la manifattura insomma artigianale e c'erano delle zone dove la gente vendeva quello che c'era in casa c'erano gli alternativi c'erano gli alternativi esatto ma esiste ancora in realtà la fiera degli alternativi l'alter Obey l'alter Obey esatto e quindi io che ho vissuto tantissimo la fiera degli Obey Obey a Sant'Ambrogio per mia scelta personale la fiera intorno al castello Sozzesco non la vado a vedere un po' perché ci sono sempre le stesse bancarelle che c'erano le stesse anche quando c'era la sì dell'Obey a Mortale e poi c'è troppa gente che mi spiace da dire viene giù con la piena cioè nel senso non è più tanto la festa dei milanesi ma è la festa di quelli che vengono a Milano a fare shopping scusa puoi spiegare questo viene giù con la piena perché non l'ha capita non mi vogliate male cari amici di Cristal Radio però insomma un po' di cattiveria ogni tanto ci sta possiamo spiegare bene questa viene giù con la piena perché tu sei cresciuta sui navigli no io sono cresciuta e nata e cresciuta a Milano vabbè sono cresciuta sui navigli adesso vivo a San Siro fate conto che vabbè ma come c'è ma scusa però però e vien giù con la piena è per indicare tutti quelli che vengono che vengono da fuori da fe però vi si vuole bene lo stesso con la piena del naviglio capito vengono giù con la piena del naviglio vi si vuole bene lo stesso anche perché siete quelli che molto probabilmente fate girare per bene l'economia dentro questa città cosa che noi molto molto probabile e poi allora ce n'è un'altra in realtà che sabato 12 scusa sabato 2 al BIM cioè dove Bicocca incontra Milano si chiama così in via Polvani dalle 11 alle 21 c'è il BIM Christmas Market adesso inizierà guarda come si è illuminato io infatti voglio capire da una persona che va a queste cose cosa ti aspetti di vedere e di comprare io mi sono illuminato perché adesso sogno l'apertura del BIM abbiamo il BIM il BUM e il BAM bravo bravo ti ho servito bene il BUN c'è una catena che fa panini il BUN però con la N finale andiamo a chiederti se possono aggiungere una M vabbè adesso faccio l'ultimo evento poi ti faccio una domanda l'evento re per cui ho iniziato forse a fare questo tipo di rubrica insieme chiaramente al fuori salone che detesto da sempre è dal 2 al 10 di dicembre c'è l'artigiano in fiera gratis sottolineano però c'è la registrazione online io immagino tutte quelle nonnine che ci vogliono andare non si possono registrare vabbè dalle 10 alle 22 e 30 tutti i giorni che cosa c'è andate a fare amici cosa andate a fare me lo dici tu prendo l'atmosfera natalizia che in altri posti non riesco a prendere adesso ma no dai dai ma l'atmosfera natalizia c'è la casa tua con il tuo calendario dell'avvento cioè non c'è necessità di andare lì con tutta la gente fa caldo il giubbotto allora cos'è il giubbotto fastidiosissimo la registrazione fastidiosissima però sacco di gente però ha sempre il suo faccio ma vai a mangiare sì ma mangio tantissimo cioè ma vai soltanto per mangiare o vai a io vado una volta per mangiare quindi è una fiera culinaria io vado una volta per mangiare una volta per fare i regali ci faccio più di una volta quando vado per fare i regali poi va a finire che comunque mangio no no e non faccio niente no 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 allora adesso ti do un compito ci andrai tanto questa settimana per favore dimmi la cosa più brutta che vedi cioè se vuoi ce l'ho già no non lo sai quest'anno se ci sarà magari quest'anno aumenta che più o meno che cos'è? a me le sculture di legno africane non piacciono molto perché sono belle in Africa sono belle alla fine artigianato tra piantate in mezzo agli stand da fine artigianato sono un po' fuori contesto le maschere diciamo o disse quella che sto che in casa ha tre o quattro dipinte africani però comunque le fa niente no bellissimi bellissimi però me lo fanno impazzire va bene e questi sono stati i miei eventi a cui io non andrò sempre il consiglio è sempre lo stesso questi sono quelli dove io non andrò voi andate fate tutto quello che volete divertite recensite fate quello che volete divertitevi ma io non ci sarò e allora noi ci sentiamo invece venerdì prossimo con eri b anzi no venerdì no perché è festa forse vieni giovedì a farci un'inclusione magari anticipo ok va bene ciao ciao ciao